La Chiesa Presbiteriana Coreana Nel momento, lei ha iniziato a migliorare di giorno in giorno. Ero grato per la misericordia del Signore Gesù. Ho giurato che avrei seguito fedelmente il Signore da lì in poi, adoperandomi per essere la persona che Lui richiede e che Gli reca gioia. Per quanto fossi occupato con il lavoro, non ho mai perso una messa. Facevo sempre offerte e partecipavo alle attività della Chiesa. Ricercavi con estremo fervore? Sì. Per la maggior parte del tempo leggevo la Bibbia e partecipavo alle attività della Chiesa. E non andavo quasi mai alle cene e agli incontri organizzati con familiari, amici, colleghi e così via. A loro la cosa dispiaceva molto. Alcuni dei miei amici, quando ho smesso di bere alcol e di fumare, e non andavo più con loro alle feste dopo essere diventato credente, mi schernivano dicendo cose come «Ti piace tanto andare in Chiesa? Allora dici, cosa guadagni dall'andare in Chiesa ogni giorno? Qual è lo scopo della tua fede?» Che cosa rispondevi? A dire la verità, sommerso dalle domande una dopo l'altra, non sapevo davvero cosa dire. Ma grazie alle loro insistenti domande, ho iniziato a riflettere seriamente. Quale era il vero scopo della mia fede? Chiedere a Dio di curare mia figlia o di far stare bene la mia famiglia? Avere fede era semplicemente leggere la Bibbia e andare in Chiesa ogni giorno? Davvero non lo sapevo. Allora ho condiviso queste domande con i sacerdoti della mia chiesa. Che cosa hanno detto? Le loro risposte erano più o meno tutte uguali. Noi abbiamo fede per la grazia della salvezza del Signore e quando Lui tornerà, ci porterà in cielo per la vita eterna. Questo tipo di risposta sembrava risolvere i miei dubbi, ma suscitava un'altra domanda. Allora come faccio ad andare in cielo? Mi hanno risposto, nella lettera ai Romani 10.10 si legge «Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca ci si confessa per essere salvati». Significa che il Signore perdona i nostri peccati, quindi siamo salvati per fede e al Suo ritorno Egli ci porterà direttamente nel regno. Quindi non devi preoccuparti di come entrare in cielo finché avrai fede. E questo ha risolto la tua confusione? No. Ho pensato che Dio è santo e la Bibbia dice «Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore». Il Signore ci richiede di diventare santi, mentre io vivevo nel peccato e non sapevo mettere in pratica le sue parole. Come potevo essere degno del regno? Il Signore Gesù ci ha detto «Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la mente». Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ma per quanto mi sforzassi nella vita quotidiana, non riuscivo a soddisfare il requisito di amare. Amavo la mia famiglia molto più del Signore e non riuscivo ad amare gli altri come me stesso. Quando i miei amici e la mia famiglia si prendevano gioco di me, mi risentivo invece di essere tollerante e paziente. Ho anche pensato alla lettera agli ebrei 1026, dove si legge «Se ci ostiniamo a peccare dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati». Sapevo cosa richiedeva il Signore, ma non riuscivo a metterlo in pratica. Continuavo a vivere nel peccato e il peccato si paga con la morte. Stando così le cose, il mio esito non sarebbe stato affatto diverso da quello dei non credenti. Questo mi ha fatto pensare che accedere al Regno non era facile come dicevano i sacerdoti, ma ancora non sapevo come avrei potuto entrarvi e ottenere la vita eterna. Ancora non avevo una via. Hai continuato a cercare? Sì. Ho continuato a chiedere diverse cose ai sacerdoti e ai miei amici della Chiesa, a fare domande, ma nessuno aveva una risposta chiara. mi chiedevano solo perché improvvisamente facessi quelle strane domande e dicevano che è così, che la gente ha praticato per secoli. Ero ancora ugualmente perplesso. Così ho deciso di mettermi a rileggere tutti e quattro i Vangeli, convinto che dovesse esserci una risposta nelle parole del Signore Gesù. Un giorno nel 2008 ho letto questi versetti. Gesù le disse «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» Sono rimasto perplesso quando li ho letti. Perché il Signore direbbe che dobbiamo vivere e credere in Lui? In quanto fedeli, non eravamo tutti vivi e credenti in Lui. Il Signore avrebbe motivi per vederci come morti. Devo dire che ciò ha destato in me molte domande. Per un po', ciò ha riflettuto su ogni volta che avevo un momento libero, ma non sono mai riuscito a capirne il vero significato. Sono andato di nuovo a fare domande ai sacerdoti e anche ad altri membri della Chiesa, ma non solo non avevano una risposta. Si sono addirittura presi gioco di me. Eppure sentivo che c'era qualche significato più profondo nascosto in ciò che il Signore diceva. Poi una volta ho letto queste parole nel Vangelo di Matteo. Un altro dei Suoi discepoli gli disse «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Devo dire che la frase «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti» mi ha un po' confuso. Perché il Signore avrebbe dovuto definire morte persone che erano vive? Il Signore ci vedeva come vivi o come morti? Ho pensato che la Bibbia dice che il peccato si paga con la morte. E io vivevo davvero nel peccato. Era questo che il Signore intendeva con i morti. Se era così, come potevo tornare alla vita e come potevo entrare nel regno? Il mio cuore era pieno di domande di cui non riuscivo a raccapezzarmi. Ma nel profondo avevo ben chiara una cosa. Dal momento che il Signore l'ha detto, la risposta doveva trovarsi nella Bibbia. Così non ho perso la fede e ho continuato a cercare la risposta. Magnifico! Cercare la verità richiede davvero fede. Sì. Sono grato al Signore. Qualche mese dopo, ho letto altre Sue parole. Leggere questo mi ha fatto subito capire in maniera chiara che i morti tornano in vita quando sentono la voce di Dio. Ero certo che fosse la risposta che stavo cercando. Ma ero ancora un po' confuso. Avevo sentito la voce del Signore tempo addietro, ma non ero ancora libero dei vincoli del peccato. Contavo come essere vivente. A cosa si riferiva veramente quelli che l'avranno udita vivranno? Cosa rende vive le persone? Al Suo ritorno, il Signore avrebbe dovuto dire altro che avevamo bisogno di sentire? Se sì, come avremmo sentito la Sua voce? Dove l'avremmo sentita? Non riuscivo a capirlo. Così ho pregato il Signore. Signore, ti prego, fammi sentire presto la Tua voce. Non voglio essere morto. Per favore, aiutami a vivere. Da allora, quando partecipavo alle funzioni religiose, ho iniziato a fare attenzione per vedere se i pastori menzionassero mai il ritorno o la voce del Signore nei loro sermoni. Quello che mi deludeva davvero era che non facevano che ripeterci di guardarci dall'eresia e di osservare e aspettare, ma non dicevano assolutamente nulla sul ritorno del Signore. Ne ho anche chiesto spiegazioni ad alcune delle principali autorità della Chiesa, ma secondo loro continuavo a porre quelle domande per mancanza di fede ed ero proprio come Tommaso. Hanno cominciato a isolarmi. Poi, altri membri della Chiesa hanno iniziato a prendere le distanze e ad escludermi. Ho finito per lasciare la Chiesa di cui avevo fatto parte per 18 anni. Hai continuato a cercare risposte? Sì. Non facevo altro che guardare i programmi delle reti CBS e CTS tutto il giorno, sperando di sentire la voce di Dio nei sermoni dei pastori rinomati. L'ho fatto per circa sei mesi, guardando dieci ore o più di quei programmi praticamente ogni giorno. Devi aver sentito molti sermoni. Sì. Ne ho ascoltati davvero tanti, ma comunque non ho trovato le risposte che volevo. Continuavo a sentirli dire che il Signore sarebbe tornato molto presto e che bastava osservare e aspettare. Ma io ero colmo di perplessità. Tutti i pastori ripetevano che il Signore stava per tornare, ma quando? E perché non lo avevamo ancora accolto? In quei giorni pregavo costantemente il Signore, dicendo «Oh Signore, ti ho aspettato per tutto il tempo, sperando così tanto di accoglierti nel corso della mia vita, di sentire la Tua voce. Oh Signore, quando arriverai, ti prego, fammi sentire la Tua voce». Quante peripezie! Come sei arrivato a leggere le parole di Dio Onnipotente e a sentire la voce di Dio? Leggendo il giornale. Il giornale? Esatto. È successo che un giorno di marzo del 2013, all'ingresso del nostro palazzo, un uomo anziano all'incirca sui 70 anni mi si è avvicinato e mi ha chiesto se volessi abbonarmi al quotidiano Chosunilbo. Mi sono detto che oggi tutti hanno cellulari e computer che legge più i giornali. Così ho rifiutato senza pensarci troppo. Ma lui per diversi giorni ogni volta che mi vedeva ha continuato a chiedermi di abbonarmi e io continuavo a rifiutare. Con mia grande sorpresa, un mese dopo, ho incontrato quello stesso uomo fuori dall'ascensore. Era come se mi stesse aspettando. Quando mi ha visto, ha sorriso e mi ha salutato. Poi mi ha chiesto se volessi abbonarmi. Mi sono domandato perché quel vecchio avesse cercato di vendermi un quotidiano per così tanto tempo. Alla fine, solo per gentilezza, mi sono abbonato a quel giornale. Ma per vari motivi, per un po' non ho avuto tempo di leggerlo. Poi durante una mattina di inizio maggio in cui mi è arrivato, l'ho preso e ho scorso velocemente i titoli come ero abituato a fare sempre. Uno di questi mi è davvero saltato subito all'occhio. Diceva, il Signore Gesù è tornato, Dio Onnipotente, pronuncia parole nell'età del regno. Ero sconvolto. Cosa? Il Signore è tornato, Dio Onnipotente, l'età del regno. Poteva mai essere vero. Ero predà di un groviglio di emozioni. In quel momento ero scosso. Finalmente la notizia che tanto cercavi. Sì. Ma poi mi sono chiesto se non potesse essere una balla. Allora sono andato a guardare in fondo alla pagina e ho visto un numero e un indirizzo della chiesa di Dio Onnipotente e alcuni titoli di libri della chiesa. Sentivo di dover approfondire attentamente perché il ritorno del Signore è una faccenda seria. Ho subito composto il numero che avevo trovato sul giornale. Dall'altra parte mi ha risposto la voce di una sorella e le ho chiesto «Potrei sapere se ciò che è stampato in questo giornale è la verità. Il Signore è tornato. Queste parole sono davvero parole di Dio?» Lei ha risposto «È vero!» Le sorelle Kim e Piao della chiesa di Dio Onnipotente hanno fissato un incontro con me e hanno condiviso le tre fasi dell'opera di Dio. Sorella Kim mi ha detto «Da quando Adamo ed Eva sono stati deviati e corrotti da Satana l'uomo ha vissuto nel peccato schiavo di Satana manipolato e ferito da Satana Per salvare completamente l'umanità dal dominio di Satana Dio ha operato in tre fasi che sono l'età della legge l'età della grazia e l'età del regno Si tratta di tre diverse fasi dell'opera ma sono compiute dallo stesso Dio Ogni fase dell'opera di Dio si basa sui bisogni dell'umanità corrotta e dunque ognuna di esse si fonda sulla fase che la precede così da compiere un'opera più elevata Poi mi ha letto un passo delle parole di Dio Onnipotente Ora te lo leggo D'accordo Dio Onnipotente dice «Il piano di gestione di 6.000 anni è diviso in un'opera di tre fasi non c'è alcuna fase che da sola possa rappresentare l'opera delle tre età ma solo una parte di un tutto Il nome Yahweh non è in grado di rappresentare tutta l'indole di Dio Il fatto che egli abbia svolto la sua opera nell'età della legge non dimostra che Dio possa essere Dio solo sotto la legge Yahweh ha promulgato le leggi per l'uomo e gli ha trasmesso i comandamenti chiedendogli di erigere il tempio e gli altari L'opera che ha svolto rappresenta solo l'età della legge Quest'opera da Lui svolta non dimostra che Dio sia solo un Dio che chiede all'uomo di rispettare la legge o che Egli sia il Dio nel tempio o che Egli sia il Dio davanti all'altare Dirlo sarebbe falso L'opera svolta sotto la legge può rappresentare solo un'età Pertanto se Dio avesse compiuto l'opera solo nell'età della legge l'uomo lo confinerebbe in questa definizione Dio è il Dio nel tempio e per servirlo dobbiamo indossare vesti sacerdotali ed entrare nel tempio Se l'opera nell'età della grazia non fosse mai stata compiuta e l'età della legge fosse continuata fino al presente l'uomo non saprebbe che Dio è anche misericordioso e amorevole Se l'opera nell'età della legge non fosse stata compiuta e fosse stata svolta solo quella dell'età della grazia allora l'uomo saprebbe solo che Dio può solo redimere l'uomo e perdonarne i peccati saprebbe solo che egli è santo e innocente e che per l'uomo è capace di sacrificare se stesso ed essere crucifisso l'uomo sarebbe a conoscenza solo di queste cose senza tuttavia avere alcuna comprensione di nient'altro Ogni età dunque rappresenta una parte dell'indole di Dio quanto a sapere quali aspetti dell'indole di Dio siano rappresentati nell'età della legge quali nell'età della grazia e quali nella fase attuale solo quando tutte e tre le fasi saranno state integrate in un tutto unico potranno svelare l'indole di Dio nella sua interezza l'uomo può comprenderla pieno solo dopo essere giunto a conoscere tutte e tre le fasi nessuna delle tre fasi può essere omessa vedrai l'indole di Dio nella sua interezza solo quando avrai conosciuto queste tre fasi dell'opera il fatto che Dio abbia completato la sua opera nell'età della legge non dimostra che Egli sia soltanto il Dio sotto la legge e il fatto che abbia completato la sua opera di redenzione non significa che Dio redimerà l'umanità in eterno queste sono tutte conclusioni tratte dall'uomo solo perché l'età della grazia è giunta al termine non puoi dire che Dio appartenga solo alla croce e che solo la croce rappresenti la salvezza di Dio farlo vorrebbe dire definire Dio nella fase attuale Dio sta svolgendo principalmente l'opera della parola ma tu non puoi dire che Dio non sia mai stato misericordioso verso l'uomo e che abbia portato solo castigo e giudizio l'opera negli ultimi giorni mette a nudo l'opera di Yahweh e di Gesù e tutti i misteri non compresi dall'uomo allo scopo di rivelare la destillazione e il fine dell'umanità e di concludere tutta l'opera di salvezza tra gli uomini questa fase dell'opera negli ultimi giorni porta tutto a termine tutti i misteri non compresi dall'uomo devono essere diparati per consentire all'uomo di penetrarli in profondità e di avere una conoscenza assolutamente chiara nel proprio cuore solo allora la razza umana potrà essere classificata in base alla natura di ognuno l'uomo arriverà a capire l'indole di Dio nella sua interezza solo dopo che il piano di gestione di 6.000 anni sarà stato completato poiché allora la sua gestione sarà giunta al termine poi sorella Kim ha tenuto con me molte altre condivisioni e ho appreso che il piano di gestione di 6.000 anni di Dio è diviso in tre età tre fasi l'età della legge l'età della grazia e l'età del regno nell'età della legge Yahweh promulgò la legge affinché l'uomo sapesse cos'è il peccato nell'età della grazia il Signore Gesù compì l'opera di redenzione egli fu crocifisso per l'umanità perdonando i peccati e permettendoci di essere liberati dalla condanna e dalla morte sotto la legge nell'età del regno Dio Onnipotente sta svolgendo l'opera di giudizio per estripare alla radice il peccato dell'uomo per purificarci e salvarci e condurci nel regno di Dio le tre fasi dell'opera si svolgono in età diverse e in modi diversi ma tutte compiute da un solo Dio è un unico Dio che svolge opere diverse in età diverse capire questo è stato davvero illuminante per me hai sentito che le tue domande avevano avuto risposta alcune sì ad esempio come entrare nel regno dei cieli sorella Kim ha detto che solo se accettiamo e sperimentiamo il giudizio e il castigo di Dio e ci liberiamo della corruzione e siamo completamente salvati da Dio possiamo entrare nel regno di Dio poi sorella Piao ha condiviso su come Dio Onnipotente purifica le persone attraverso la sua opera di giudizio ha condiviso un passo delle parole di Dio che vorrei leggere certo Dio Onnipotente dice Cristo degli ultimi giorni utilizza una serie di verità per insegnare all'uomo rivelarne l'essenza e analizzarne le parole e le azioni queste parole comprendono diverse verità quali il dovere dell'uomo come l'uomo dovrebbe obbedire a Dio come dovrebbe essergli fedele come dovrebbe vivere la normale umanità così come la saggezza e l'indole di Dio e così via queste parole sono tutte dirette all'essenza dell'uomo e alla sua indole corrotta in particolare le parole che rivelano come l'uomo rifiuta Dio vengono pronunciate a proposito di come l'uomo sia la personificazione di Satana e una forza nemica di Dio quando Dio comincia l'opera di giudizio egli non si limita semplicemente a chiarire la natura dell'uomo con poche parole ma compie la rivelazione il trattamento e la potatura a lungo termine nessuno di questi diversi metodi la rivelazione il trattamento e la potatura può essere sostituito con parole ordinarie ma con la verità che l'uomo non possiede affatto solo tale metodo di lavoro viene considerato giudizio solamente attraverso tale giudizio l'uomo può essere assoggettato pienamente convinto a sottomettersi a Dio e inoltre può ottenere la vera conoscenza di Dio ciò che l'opera di giudizio realizza è la comprensione da parte dell'uomo del vero volto di Dio e la verità riguardo alla sua ribellione l'opera di giudizio permette all'uomo di ottenere molta comprensione della volontà di Dio dello scopo della sua opera e dei misteri che per l'uomo sono incomprensibili inoltre consente all'uomo di individuare e conoscere la sua sostanza corrotta e le radici della sua corruzione come pure di scoprire la sua bruttezza questi effetti si realizzano tutti tramite l'opera di giudizio perché la sua sostanza è di fatto l'opera di svelare la verità la via e la vita di Dio a tutti coloro che hanno fede in Lui quest'opera è l'opera di giudizio svolta da Dio poi sorella Piao ha detto Dio onnipotente usa la verità per giudicare e purificare le persone ha pronunciato milioni di parole che rivelano i misteri della Bibbia e testimoniano l'opera di Dio e svelano la radice del peccato dell'uomo e la verità della nostra corruzione alcune parlano di cambio di indole e ingresso nella vita altre definiscono l'esito delle persone e così via tutte sono verità e tutte provengono da Dio questo ci mostra l'indole giusta e santa di Dio e la sua saggezza chiunque legga le sue parole può percepire l'autorità e la potenza delle parole di Dio Dio vede tutto solo Dio conosce l'umanità corrotta in ogni aspetto Dio mette a nudo ogni nostro pensiero punto di vista idea e stato corrotto così chiaramente e in termini più che concreti egli rivela e analizza anche l'essenza di questa corruzione esterpando alla radice la peccaminosità dell'uomo e l'opposizione a Dio poi ha aggiunto attraverso il giudizio le rivelazioni e l'affinamento delle parole di Dio acquisiamo una certa comprensione della verità della nostra corruzione satanica allora vediamo quanto siamo falsi arroganti spregevoli che tutto ciò che diciamo si basa sulla corruzione e non viviamo affatto una sembianza umana lottiamo per la reputazione e il prestigio mentiamo e inganniamo siamo gelosi e proviamo odio abbiamo fede ma senza sottometterci a Dio nutriamo desideri smodati incolpiamo Dio e ci opponiamo a Lui di fronte a prove o difficoltà sono tutti esempi comprendiamo alcune verità attraverso il giudizio di Dio e otteniamo così il discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male conosciamo anche maggiormente l'indole giusta di Dio che non tollera offesa e gradualmente arriviamo a temere Dio e a sottometterci a Lui siamo in grado di pentirci accettare il suo castigo e praticare le sue parole la sorella ha aggiunto senza le parole di Dio a smascherarci solo mediante la preghiera e la confessione non avremmo ottenuto comprensione attraverso la riflessione o estirpato la radice del nostro peccato attraverso l'esperienza vediamo che il giudizio di Dio è davvero il suo amore più sincero e la salvezza per l'uomo e senza quest'opera concreta la nostra indole corrotta non potrebbe mai essere purificata ecco perché accogliere l'opera di giudizio di Dio degli ultimi giorni è l'unica strada per entrare nel regno sì questo è un ottimo modo per descrivere la via vero poi mi ha raccontato la loro personale testimonianza del giudizio delle parole di Dio era tutto così pratico l'opera di Dio onnipotente era proprio ciò di cui avevo bisogno spiritualmente l'opera di Dio degli ultimi giorni può davvero cambiare e purificare le persone e l'unico modo per accedere al regno è accettare il giudizio di Dio nei giorni successivi le sorelle mi hanno parlato del perché il mondo religioso sia sterile e i sermoni dei pastori senza vigore e poi della verità nascosta della Bibbia e dei misteri e del significato delle incarnazioni di Dio sentivo che le parole di Dio onnipotente erano davvero ricche e mi aprivano gli occhi su tanti misteri così ho accolto la salvezza di Dio onnipotente degli ultimi giorni lode a Dio hai sentito la voce di Dio e hai accolto il Signore sì sono grato a Dio le sorelle mi hanno dato dei libri delle parole di Dio tornato a casa ne ho subito aperto uno il libro aperto dall'agnello la prima cosa che ho letto sono state alcune parole di Dio nella prefazione sebbene molte persone credano in Dio poche capiscono cosa significhi avere fede in Lui e cosa debbano fare per conformarsi alla Sua volontà questo perché sebbene le persone conoscano la parola Dio ed espressioni come l'opera di Dio non conoscono Dio né tantomeno la Sua opera non c'è da meravigliarsi quindi che tutti coloro che non conoscono Dio credano in modo confuso le persone non prendono sul serio la fede in Dio perché credere in Lui è troppo insolito troppo strano per loro di conseguenza non sono all'altezza delle richieste di Dio in altre parole se la gente non conosce Dio e non conosce la Sua opera non è adatta a essere usata da Dio e tantomeno può soddisfare la Sua volontà fede in Dio significa credere che ci sia un Dio questo è il concetto più semplice per quanto riguarda il credere in Dio inoltre credere che ci sia un Dio non equivale a credere veramente in Lui piuttosto è una sorta di fede semplice con forti connotazioni religiose La vera fede in Dio significa quanto segue sulla base della convinzione che Egli ha la sovranità su tutte le cose si sperimentano le Sue parole e la Sua opera si purifica la propria indole corrotta si soddisfa la volontà di Dio e si arriva a conoscerlo solo mediante un percorso siffatto puoi affermare di credere in Dio Le parole di Dio sono dettagliate e pratiche e mostrano il significato della fede in Dio così ho capito che la fede richiede di sperimentare le parole e l'opera di Dio per liberarsi dalla corruzione acquisire verità e conoscere Dio solo questa è vera fede una volta credevo che avere fede significasse pregare ogni giorno e andare spesso in chiesa purtroppo non riuscivo mai a capire se fossi sul giusto cammino di fede o meno quindi ho compiuto molti passi falsi poi leggendo le parole di Dio onnipotente ho compreso che il mio precedente cammino di fede era completamente sbagliato in seguito ho letto nell'indice del libro e ho visto il titolo sei una persona che ha preso vita mi attirava e ho cercato subito il capitolo queste le parole di Dio Dio creò l'uomo ma poi egli venne corrotto da Satana e questa corruzione ha imprigionato le persone in corpi senza vita quindi dopo che sarai cambiato sarai diverso da questi corpi morti sono le parole di Dio a dare vita allo spirito delle persone e a farle rinascere e quando lo spirito delle persone sarà rinato esse avranno preso vita il termine morti si riferisce ai corpi che non hanno spirito alle persone nelle quali lo spirito è morto quando viene data la vita allo spirito delle persone esse prendono vita i santi di cui si è parlato in precedenza corrispondono alle persone che hanno preso vita che erano sotto l'influsso di Satana ma sono riuscite a sconfiggerlo i morti sono coloro che si oppongono e si ribellano a Dio coloro che sono intorpiditi nello spirito e non comprendono le sue parole coloro che non mettono in pratica la verità e che non mostrano la minima fedeltà nei confronti di Dio coloro che vivono sotto il dominio di Satana il quale li sfrutta i morti si manifestano opponendosi alla verità ribellandosi a Dio e comportandosi in modo abietto spregevole malvagio brutale ingannevole e insidioso anche se persone simili si nutrono delle parole di Dio non sono in grado di viverle vivono ma sono solo cadaveri che camminano e respirano i morti sono totalmente incapaci di compiacere Dio né tantomeno sono davvero in grado di obbedirgli sanno soltanto ingannarlo bestemmiarlo e tradirlo e tutto quello che realizzano nel modo in cui vivono rivela la natura di Satana se le persone desiderano diventare esseri viventi testimoniare Dio e avere la sua approvazione devono accettare la sua salvezza sottomettersi di buon grado al suo giudizio e al suo castigo e accettare con gioia la sua potatura e il suo trattamento solo allora saranno in grado di mettere in pratica tutte le verità richieste da Dio di guadagnare la sua salvezza e diventare realmente esseri viventi i vivi sono salvati da Dio essi sono stati giudicati e castigati da Lui sono disposti a dedicare loro stessi e sono lieti di offrirgli e di dedicargli la loro vita solo quando i vivi testimoniano Dio Satana può essere umiliato soltanto i vivi possono diffondere l'opera del Vangelo di Dio solo chi è vivo è in sintonia con il suo cuore ed è una persona reale dopo aver letto questo passo sapevo nel mio cuore che quella era la risposta che avevo cercato per tanti anni finalmente sapevo cosa significava essere morto o vivo quando Dio creò Adamo ed Eva loro potevano ascoltare Dio glorificarlo erano persone vive dotate di spirito poi arrivò Satana che li tentò a tradire Dio e cominciarono a vivere nel peccato sotto il dominio di Satana ed è così che l'umanità divenne corrotta con ogni sorta di veleno satanico a penetrare in noi siamo sprofondati ancor più nel peccato negando Dio rifiutandolo e resistendogli vivendo di un'indole satanica noi non siamo affatto così come Dio ci creò in principio Dio considera coloro che vivono nel peccato e sotto il potere di Satana morti e i morti appartengono a Satana si oppongono a Dio non sono considerati degni del suo regno i vivi sono coloro che Dio salva la loro corruzione viene purificata attraverso il giudizio e il castigo di Dio si liberano dal peccato e dalle forze di Satana e smettono di opporsi a Dio non importa come Dio parli e operi essi sanno ascoltarlo e obbedirgli i vivi possono rendere testimonianza e glorificare Dio e sono gli unici che possono ottenere l'accesso al suo regno ora per diventare vivi dobbiamo accogliere le verità da Dio onnipotente e sperimentare il suo giudizio poi essere purificati e recuperare la nostra coscienza e la nostra ragionevolezza obbedire al creatore e mettere in pratica le parole di Dio riverirlo e testimoniarlo tale è una persona che è veramente tornata alla vita che può entrare nel regno e ottenere la vita eterna a quel punto ho davvero capito cosa intendeva il Signore con io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai ecco cosa significa una volta compreso questo ho sentito il mio cuore illuminarsi sì non avremmo mai potuto capire tutto questo senza Dio Onnipotente esatto in seguito ho letto un altro articolo che era intitolato solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all'uomo la via della vita eterna vorrei far vedere il video di un passo in esso contenuto mi ha colpito davvero profondamente fai pure Dio Onnipotente dice il Cristo degli ultimi giorni dona la vita e offre la via duratura e perpetua della verità questa verità è il cammino attraverso cui l'uomo guadagna la vita ed è l'unico cammino con cui egli conoscerà Dio e sarà da Lui approvato se non cerchi la via della vita offerta dal Cristo degli ultimi giorni non otterrai mai l'approvazione di Gesù e non avrai mai i requisiti per varcare la porta del regno dei cieli poiché sei un fantoccio e un prigioniero della storia coloro che sono governati da regole da lettere e incatenati alla storia non potranno mai guadagnare la vita né acquisire la via perpetua della vita questo perché tutto ciò che hanno è acqua torbida alla quale sono rimasti attaccati per migliaia di anni anziché l'acqua di vita che fluisce dal trono coloro che non sono riforniti di acqua di vita rimarranno per sempre cadaveri giocattoli di Satana e figli dell'inferno come potranno allora contemplare Dio se ti limiti ad attenerti al passato cerchi solo di mantenere le cose come stanno rimanendo fermo e non cerchi di modificare lo status quo e di abbandonare la storia non sarai forse sempre contro Dio le fasi dell'opera di Dio sono vaste e poderose come grandi ondate e tuoni rimbombanti eppure tu stai seduto ad aspettare passivamente la distruzione ancorato alla tua follia e senza fare nulla in questo modo come puoi essere considerato uno che segue le orme dell'agnello come puoi considerare il Dio a cui ti attieni come un Dio sempre nuovo e mai vecchio e come possono le parole dei tuoi libri ingialliti trasportarti verso una nuova era come possono indurti a cercare le fasi dell'opera di Dio e come possono innalzarti al cielo ciò che tieni in mano sono le lettere che possono fornire solo un sollievo temporaneo non le verità in grado di dare la vita le sacre scritture che leggi possono soltanto arricchire la tua lingua e non sono parole di filosofia in grado di aiutarti a conoscere la vita umana tantomeno percorsi in grado di condurti alla perfezione questa discrepanza non ti induce a riflettere non ti fa rendere conto dei misteri ivicelati sei in grado di presentarti da solo in cielo per incontrare Dio senza l'avvento di Dio puoi raggiungere il cielo per godere di una felicità familiare con Lui adesso stai ancora sognando ti suggerisco allora di smettere di sognare e di guardare chi adesso sta compiendo l'opera di salvare l'uomo durante gli ultimi giorni altrimenti non acquisirai mai la verità e non guadagnerai mai la vita questo mi ha toccato davvero nel profondo ho sentito che era così autorevole e potente quelle parole potevano venire solo da Dio il Signore Gesù ha detto io sono la via la verità e la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me è così se non Dio chi mai potrebbe governare i cancelli del regno se desideriamo la vita eterna dobbiamo accogliere la via della vita eterna portata dal Cristo degli ultimi giorni le verità espresse dal Signore Gesù ritornato è l'unico modo per realizzare le nostre speranze di entrare nel regno mi sono sentito fortunato ad aver trovato la via per entrare nel regno ero così entusiasta ho letto le parole di Dio come fossero cibo per un affamato e hanno avuto un impatto così profondo su di me più leggevo più sapevo che erano la verità che queste parole non potevano certamente provenire da un qualsiasi pastore o teologo le parole di Dio onnipotente nutrivano la mia anima smarrita e affamata e ho ripensato a quel vecchio che vendeva giornali lui continuava a chiedermi di abbonarmi e grazie a questo ho sentito la voce di Dio volevo ringraziarlo con tutto il cuore ma non sono riuscito a rintracciarlo poi ho capito che erano state le mirabili azioni di Dio a permettere tutto questo quell'uomo mi aveva chiesto di abbonarmi solo così ho potuto sentire la voce di Dio e accogliere il ritorno del Signore era la guida di Dio era il suo amore per me sono veramente grato a Dio lode a Dio è una storia davvero speciale grazie mi sento così fortunato incredibilmente benedetto per aver potuto sentire la voce di Dio e assistere alla sua apparizione durante la mia vita questa è la misericordia e la grazia di Dio e ancor più la sua salvezza per me sia l'odato di onnipotente lode a Dio lode a Dio la sua salvezza per me e la sua salvezza per me